Come intesa San Paolo Private Banking siamo molto contenti ed orgogliosi di continuare questa partnership con la Genova Shipping Week e con Massagenti. I motivi per i quali noi abbiamo comunque anche quest'anno rinnovato la partnership sono molteplici. In primis la vicinanza ad un settore così importante a livello italiano come quello dello shipping, la vicinanza ad un territorio come quello Ligure ed in particolare alla città di Genova, ma ritengo soprattutto perché nel recente passato questa joint venture con la Genova Shipping Week ci ha permesso di tessere nuove relazioni e fare nuove sinergie con operatori del settore dello shipping. Queste secondo me necessarie e indispensabili per affrontare insieme le nuove sfide che il futuro inevitabilmente ci metterà davanti in un ambito così strategico e fondamentale per l'economia intera di tutto il nostro paese. Allora, Intesa San Paolo Private Banking è presente in Liguria, in tutti i capoluoghi di provincia, Genova, con la filiale grandi clienti ai network individual e la filiale private, a Savona, a Spezia e a Sanremo, in questo caso qua è un capoluogo di provincia e con oltre 30 private bankers sul territorio. Due parole velocissime sul nostro modello di servizio. Il nostro modello di servizio prevede un'offerta fortemente personalizzata e completa che mette a disposizione della nostra clientela le migliori competenze e l'affidabilità delle società del gruppo Intesa San Paolo insieme però all'eccellenza dei migliori gestori internazionali di patrimoni. Grazie. 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 Grazie.